Un obiettivo che cominciavamo a porci dagli ultimi anni, soprattutto visto il crescendo dal 2010, il nostro primo anno, al 2019, siamo passati da meno di 3.000 a più di 10.000. Abbiamo già il prossimo obiettivo che sono gli 11.000, sono certo che raggiungeremo in questi ultimi 4 giorni una bella soddisfazione, premia un lavoro complessivo, collettivo, premia l'impegno degli operatori, premia soprattutto la bontà, l'eccellenza del nostro artigianato artistico, senza queste produzioni, questi elaborati, questi prodotti non saremmo arrivati neanche al 500.